Salve a tutti amici, oggi parliamo di bus fishing parliamo in particolare di un determinato innesco un innesco finesse dedicato alla pesca al bus il walkie rig un innesco che fa come sua caratteristica principale la semplicità andiamo a vedere cosa ci occorre innanzitutto un ammo da walkie spiombato o una testina da walkie poi dobbiamo prendere in considerazione il nostro siliconico molto spesso a walkie innescheremo dei senco, dei senco style worms oppure dei finesse worms in questo caso prendiamo in considerazione un finesse worm andiamo a vedere come innescare il nostro verme allora, con due semplici passaggi possiamo concludere e creare il nostro ricchio per cui vediamo dove si trova il centro del nostro verme prendiamo la nostra testina, il nostro amo e inneschiamolo proprio nel centro ecco qui che il nostro rig è pronto perfetto ragazzi, adesso il nostro innesco è pronto non ci resta che andare a pesca e provarlo mi raccomando, provate i cuochi rig in tutto l'arco dell'anno ed è vario per tutte le stagioni e vedrete che vi regalerà una grande quantità di pesci ci siete a pesca grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti